di contro sarnella sulla decisione dell'imprenditore di rilevare la holding punta da hcs per arrivare alle terme ancora senza stipendio i lavoratori della siligato dopo il sit in dei giorni scorsi i dipendenti si riorganizzano e pensano ad un'avvertenza al sottopedico smascherato dalla guardia di finanza il 44enne da tre mesi lavorava la dispoli tra le vittime una 75enne costretta a sborsare compensi molto elevati box è andata in scena ieri la conferenza stampa dell'europeo dei leggeri tra marsili e giaccon e i due pugili vincerà il migliore nuova edizione del telegiornale alto lazio ben trovati in primo piano la questione hcs il partito democratico bacchetta il presidente di acantus spa giuseppe sarnella e la sua intenzione di voler acquistare il 100% della capitale di città pulita argo e ipocrate per il pd si tratta infatti solo di un tentativo per tentare un patteggiamento per ottenere i lavori del comparto termale sentiamo il servizio smettiamola di provocare polveroni per attirare l'opinione pubblica giocando anche sui posti di lavoro dei dipendenti di hcs la situazione seria e servono persone serie competenti e che siano limpide nel mostrare le carte secca la replica del partito democratico alle dichiarazioni del presidente di acantus giuseppe sarnella l'imprenditore romano infatti proprio ieri ha annunciato di aver presentato la riconferma della manifestazione di interesse per l'acquisto del 100% di città pulita argo e ipocrate una lanciata per i democrat quella effettuata da sarnella per allungare i tempi e tentare un patteggiamento per ottenere lavori del comparto termale su questa questione proseguono dal pd è già stato ritenuto inattendibile dall'amministrazione in quanto non in grado di finanziare le chiacchiere e sottolineano come ora per hcs dal pincio si stanno cercando soluzioni che aprano una prospettiva di risanamento della situazione debitoria ereditata che permettano il mantenimento del settore idrico pubblico le tariffe a costi ragionevoli per i contribuenti una città pulita dei trasporti efficienti meritocrazia e soprattutto salvaguardia dei posti di lavoro e questo presuppone che un'eventuale vendita totale o parziale della società concludono dal partito democratico sia rivolta ad acquirenti capaci e competenti nell'ambito della gestione dei servizi Stato di agitazione dei dipendenti comunali è da annunciarlo Will, FPL, USB, PI il motivo? Il rallentamento della valutazione a tutto il personale dipendente propedeutica all'erogazione del premio individuale produttività collettiva anno 2012 sulla busta paga del mese di aprile 2013 E ancora niente stipendio per i dipendenti della clinica Siligato che proprio nei giorni scorsi hanno presidiato l'ingresso della struttura sanitaria per rivendicare il diritto alla paga una situazione drammatica per il responsabile FPCGL Angelo Guiducci che non esclude col protrarsi della situazione di avviare un'avvertenza legale nei confronti dell'amministrazione della struttura sanitaria Sentiamo il servizio Doveva essere giorno di paga oggi per i dipendenti della clinica Siligato ma purtroppo per loro così non è stato Il motivo sempre lo stesso l'impossibilità da parte della clinica di versare gli stipendi senza prima incassare quel bonifico per servizi già erogati Il momento è difficile, commenta Angelo Guiducci della FPCGL L'azienda continua a dire che occorre fare sacrifici dall'altro lato però i dipendenti stanno vivendo momenti difficili e drammatici E se la situazione dovesse protrarsi ancora a lungo non si esclude nemmeno di mettere in atto un'avvertenza legale con richiesta di ingiunzione di pagamento I tempi per la pratica sono lunghi ma almeno è l'azione più sicura per ottenere lo stipendio Anche se allo stesso tempo Guiducci sottolinea come ad oggi i dipendenti stiano mettendo in atto tutti i sacrifici possibili per cercare di venire incontro all'amministrazione della struttura sanitaria e garantire allo stesso tempo l'assistenza ai pazienti in essa ricoverati Intanto delle voci di corridoio parlano di denaro in arrivo anche se dovrebbe volerci ancora qualche giorno all'incirca 10 e Guiducci non esclude che anche in questo modo la clinica riuscirebbe a pagare solo una mensilità e non i due mesi e mezzo di arretrati In casa PD a Civitavecchia c'è chi pensa al nuovo in particolare c'è chi guarda Renzi come possibilità di rinnovamento del movimento politico che alle nazionali è subito una sconfitta superato dai grillini A optare per lo svecchiamento della politica sono il consigliare comunale delegato alle politiche giovanili Stefano Giannini e l'assessore all'ambiente Roberta Galletta che secondo alcune indiscrezioni già ieri avrebbero incontrato il coordinatore dell'area Renzi a Roma che il modo di fare politica da parte del Partito Democratico Locale non piacesse più ad alcuni esponenti lo si era già evinto nelle scorse settimane non ultime le dichiarazioni proprio del consigliare Giannini che in una nota ha invitato proprio la vecchia classe dirigente a fare un definitivo passo indietro Chiunque intenda guidare il PD e sottolineato Giannini dovrebbe partire da quattro semplici punti il controllo del tesseramento e della regolarità dello stesso decisioni non più verticistiche sia nella vita del partito sia per quel che riguarda i rapporti con apparati provinciali, regionali e nazionali commissioni ad hoc su temi importanti dell'amministrazione che riescano a coinvolgere la base del partito e la lotta dell'interno ai costi della politica Le varie iniziative oggi per la commemorazione dell'8 marzo il comune di Civitavecchia da parte sua ha affisso questa mattina sul balcone del Palazzo del Pincio uno struscione contro il femminicidio è iniziata questa mattina alle 10.30 la raccolta firme organizzata dalle volontarie del telefono Rosa contro la violenza sulle donne il sindaco Tidei ha invece pensato di fare gli auguri più sobri e le dipendenti comunali le quali riceveranno una mimosa telematica sulla loro posta elettronica privata verrà inoltre annunciato il nuovo ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio Comunale con cui l'amministrazione si impegnerà a costituirsi parte civile nei processi per violenza o per stalking contro le donne Ed ora andiamo alla Dispoli con una buona parlantina ed uno spiccato accento settentrionale si presentava come ortopedico confortato anche dall'aspetto sempre distinto ed elegante peccato che la laurea non l'avesse mai conseguita come hanno appurato i finanzieri del Comando Provinciale di Roma dopo alcune segnalazioni di pazienti che si erano affidati alle sue cure l'uomo un 44enne pregiudicato per truffa ed appropriazione in debita si era trasferito alla Dispoli da circa tre mesi ed era riuscito in breve tempo a farsi conoscere nella città ed a crearsi una discreta clientela per accreditarsi ai potenziali clienti affermava di lavorare per un noto istituto di riabilitazione di Milano e che avrebbe aperto a breve uno studio polifunzionale in associazione con alcuni medici dell'ospedale romano Bambin Gesù il provvidenziale intervento delle fiamme gialle alla tenenza di la Dispoli ha permesso di interrompere l'attività illecita dell'uomo che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Civitavecchia per esercizio abusivo della professione medica è giallo a bulci per il ritrovamento di grosse impronte ed animale i tecnici della Mastarna la società che gestisce il parco archeologico hanno rinvenuto sulle sponde del fiume Fiora alcune grandi impronte di animale sembrerebbe che la strana creatura sia a giri tra le antiche tombe etrusche e gli scavi archeologici dove il personale del parco sta lavorando da alcuni mesi da un primo riscontro le tracce rinvenute somiglierebbero a quelle di una pantera il felino più volte avvistato negli ultimi anni in tutta la Tuscia ma forse è probabile che si tratti di un pastore maremmano il fatto secondo alcuni potrebbe essere collegato le carcasse di pecora trovate da alcuni agricoltori del luogo il primo ritrovamento è stato segnalato da Torre Crognola al confine con la Toscana un agricoltore ha rinvenuto un ovino sbranato ed escluderebbe sia opera di un cinghiale identica segnalazione in località Pian di Maggio a pochissimi chilometri dal parco archeologico di Bulci il direttore della Mastarna Carlo Casi per togliere ogni dubbio ha inviato le foto delle impronte ad Antonio Baraglio direttore tecnico della Selva del Lamone è violenta l'ita in famiglia a Tarquinia intervento della polizia nella serata di mercoledì gli agenti del commisariato di Tarquinia sono infatti intervenuti presso un'abitazione del centro cittadino dove una 78enne ha dichiarato di essere stata aggredita con un coltello dal marito di 89 anni la donna che fortunatamente è riuscita ad allontanarsi dalla stanza dove era venuta l'aggressione a richiedere i soccorsi è stata subito trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia dove le sono state diagnosticate ferite multiple da taglio alla coscia, all'addome e al collo giudicate guaribili in 10 giorni l'autore dell'aggressione per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità trovato in stato confusionale dagli uomini del commissariato è stato trasportato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale Belcolle di Viterbo i familiari della donna si sono adoperati per trovarle un'altra sistemazione allogiativa poiché sembrerebbe non più possibile la sua convivenza con il marito nel momento in cui verrà dimesso è un altro centro commerciale a Fiumicino in località Levignole sta per essere realizzato la società La Vignolina ha infatti presentato istanza di autorizzazione amministrativa per l'apertura di un centro commerciale di quasi 17 mila metri quadri nel comune di Fiumicino in zona Levignole appunto il complesso denominato Mid Outlet Village Fiumicino è interamente dedicato al settore non alimentare e dovrebbe essere composto da 124 esercizi di vicinato e 10 medie strutture di vendita protesta però l'ASCOM bisogna arrestare l'avanzata della grande distribuzione dice e scongiurare l'ennesimo duro colpo ai danni del commercio locale e in occasione della festa della donna il sindaco di Allumiera Gusto Battilocchio ha inviato a tutte le dipendenti comunali a tutte le donne del paese e del movimento rosa se non ora quando un messaggio nel quale tra le altre cose esprime vicinanza e solidarietà da quando è nata questa festa sono passati più di 100 anni certamente la condizione della donna è migliorata ma la realtà rimane ancora vara con le donne scrive il sindaco le donne vivono meglio hanno progetti più ambiziosi per il futuro ma è ancora arduo e lungo il cammino che hanno davanti oggi più che mai è importante rimettere al centro della politica contenuti chiari e forti rispetto a scelte che riguardano la vita delle donne ma anche e soprattutto la rivendicazione di diritti e di valori per affermare con forza la dignità della persona Battilocchio poi spiega che da queste riflessioni ritengo che tutti noi dobbiamo adoperarci nella nostra quotidianità affinché l'8 marzo non prevalga quel senso di provvisorio, di rituale, di conformismo dove la festa sia davvero un momento di un luongo e serio discorso nella prospettiva di una società più giusta, più umana, più solidale ci dobbiamo adoperare per creare un mondo migliore un mondo in cui le donne possano trovare in ogni ambito della vita personale e sociale rispetto per le proprie scelte e per la propria dignità e persona Non ci sono mai stati problemi per il centro anziani di Via Lazio ad affermarlo è il vice sindaco di Santa Marinella Eugenio Fratturato in risposta alle aisternazioni di una parte della minoranza che si diceva solidale con i soci della struttura comunale che era a rischio chiusura Non è mai esistito un problema di chiusura del centro anziani continua fratturato perché la nostra amministrazione ha sempre seguito con interesse le attività degli anziani per quel che riguarda il discorso sul contributo per il pagamento delle quote di affitto tutti sanno che noi siamo mossi per tempo per risolvere la questione in modo che non creasse difficoltà al presidente del centro Ed ora parliamo di sport si è svolta ieri presso la sala Calamatta la conferenza stampa dell'Europeo dei Leggeri tra Marsiglia e Giacon in scena domani al Palasport di Civitavecchia tanto fair play da ambo le parti sentiamo il servizio Alessio Alessio Quanto ti sei preparato per questo incontro? Sono immagino mesi che stai lavorando? Sì, sono parecchi mesi perché ero già in attesa da giugno dell'Ebu più o meno sono da metà novembre metà novembre che siamo in allenamento e abbiamo arrivato ormai alla fine Sei felice di affrontare Marsiglia o avresti preferito qualcun altro per questo europeo? No, per me è un onore pure infrontare Marsiglia pure dirti che questo è come abbiamo detto prima io sono un professionista il mio lavoro e io devo essere pronto per affrontare qualche asino C'è qualcosa che temi maggiormente di Emiliano Marsiglia? Che temi? O comunque qualcosa alla quale farei maggior attenzione? Tanto voi come io sapete tutti che lui è un bravo pugile e dovrò stare pure io attento sulle dodici riprese perché non possiamo sbagliare nessuno di tutti i due con Emiliano Marsili sabato il match con Luca Giacon oggi c'è stata la conferenza stampa innanzitutto vorrei partire da una cosa molto semplice ma alla fine importante forse la più importante le tue emozioni prima di questo match Le emozioni ci sono perché sono tante perché sempre qualsiasi match si fa l'emozione c'è puntare sul quadrato iniziando già due giorni prima conferenza stampa e peso già iniziano i primi brividi i primi sentimenti diciamo il primo round del match Cosa hai provato oggi quando hai visto Luca Giacon? Qualcosa immagino nella tua mente forse non nella tua mente ma qualcosa hai sentito dentro? No, diciamo rispetto per l'avversario per carità però sai ti cominci a medicinare nel match e arrivare quella tensione quella determinazione che già hai che impronti caratterialmente Già sei sembrato molto concentrato da come sei arrivato oggi qui nella sala Calamatta ma quanto comincia quando comincia il match vero e proprio per te? Adesso mi hai detto ci sto arrivando piano piano sento la tensione ma quando comincia il match vero e proprio? Lo stesso giorno? Il giorno prima? La notte prima? Già è iniziato già è iniziata la concentrazione già è iniziato il match vero già è iniziato perché appena sono entrato qui già è iniziata la mia determinazione il mio concentramento già è iniziato i due o tre giorni il primo round è già iniziato Pacata e non polemica la replica del delegato allo sport del comune di Civitavecchia Ivano Iacomelli dopo le accuse mossigli dal patron dei nerazzurri folgori non voglio fare polemica perché sono stato dirigente di società sportiva e so quanto è difficile andare avanti in un momento di crisi economica come questo dire però che l'amministrazione è assente è ingeneroso la città si ricordi che se il Civitavecchia calcio è scritto in serie di è solo merito nostro e che se altre trasferte in Sardegna sono state fatte senza problemi è grazie a sponsor trovati proprio da Mettidei i soldi dell'Enel arriveranno sicuramente ci sono però dei tempi tecnici da rispettare è un onere del Presidente anticipare queste somme che sicuramente poi torneranno indietro e la CISL Soccer nei quarti di finale di Coppa Lazio incontra il Cori partita d'andata prevista per il 13 marzo allo stadio Fattori e noi ci fermiamo qui il telegiornale Alto Lazio torna come sempre alle 19.45 circa grazie a tutti per la cortesia e attenzione arrivederci grazie a tutti